Spacco butelia, ammasso famiglia Grande Cito, grande, suaaah Siamo lì, buona fortuna Conoscete la storia delle 100 euro bruciate? Lo dice... No, non la conosco la storia delle 100... Che è che lo dice? Camione padadina orta team, ragazzi, attenzione Oh! Oh! Vioio! City! Ma se ti dicono tranquillo mangio cioccolato Cosa fai? Prima annuso! Tieni, mangia questo Sta tranquillo, è cioccolato Ragazzi, conoscete quello stalker con gli occhiali? Non so di chi tu stia parlando. La sua conferenza stampa, la notizia è di quelle clamorose, si può ben dire storica. Benedetto XVI ha deciso di dare le dimissioni. C'è uno stalker con gli occhiali che non si sa bene se sia presente nella chat o se sia presente in giro. Non lo sappiamo. E poi Tom dice che ha venuto Paolini. Ah, cioè sì, sono degli stalker che hanno addirittura nome e cognome, va bene. You know I go psycho when my new joint hit. Just can't say.